La Sardegna e la Gallura si mobilitano per la manifestazione convocata dalla CGL nazionale con altre 100 associazioni per sabato 7 ottobre a Roma. Nella capitale, sotto lo slogan La Via Maestra insieme per la Costituzione, arriveranno circa 1600 persone dalla Sardegna, 500 partiranno dal porto di Olbia. La delegazione gallurese sarà composta da lavoratrici e lavoratori, studentesse, studenti delle scuole superiori, universitari e rappresentanti di tante associazioni. La Gallura chiede il rispetto dei diritti garantiti dalla Costituzione, sanità, trasporti, istruzione e dice no all'autonomia differenziata. L'autonomia differenziata infatti rischia seriamente di privare l'isola di risorse fondamentali per la sanità, l'istruzione e le opere pubbliche. Il nostro territorio ha forte vocazione turistica dove il lavoro c'è. Certo, è un lavoro legato soprattutto al turismo e alla logistica ed è un lavoro però prevalentemente povero, un lavoro prevalentemente precario dove il lavoro è stabile, soprattutto nel pubblico, osserviamo invece come la mancanza dei rinnovi contrattuali, incida pesantemente sul tenore di vita delle persone. Gli stipendi non sono assolutamente adeguati al costo della vita che invece è notevolmente aumentato. Non si può quindi non pensare che il territorio gallurese non senta forte la necessità di rivendicare e di dire basta rispetto a tutti i sopprusi che questo governo, ma anche quelli precedenti per essere onesti, hanno messo in atto. E poi ancora il dimensionamento scolastico, l'impoverimento dell'offerta formativa, la sanità pubblica diventata quasi inaccessibile con conseguente rinuncia alle cure e la carenza delle infrastrutture con i cronici problemi legati ad appalti problematici e progetti complicati come quelli per la strada Olbiar-Zachena e il ponte di Montepino.